Ciao a tutti e bentornati a Pillole di Storia. La pillola di oggi non ve lo nascondo, mi è stata richiesta un'infinità di volte, tramite i commenti ai video, mail, messaggi privati, addirittura mi è stata chiesta a voce, pensate un po' a che punto siamo arrivati, ed è però una storia che ho sempre molto tentennato a raccontare, perché a mio parere, a mio parere ripeto, la storia del Principato di Seborga, che per chi non lo conoscesse è un piccolo Principato autonominatosi tale, ma soprattutto autonominatosi autonomo all'interno della Repubblica Italiana, che grosso modo corrisponde a un comune, appunto il comune di Seborga, che si trova nella provincia di Imperia, in Liguria, bene, a mio parere, questa storia, più che degli aspetti storici, reali, ha più che altro degli aspetti di tipo commerciali, cioè è una storia imbastita e messa su per motivi prettamente turistici e di guadagno, ma ripeto, è un'idea mia, cosa che però per questo mi aveva spinto mai a raccontare questa storia, mai a girare una pidola di questo tipo. Quando però, un po' per interesse personale, sono andato ad approfondire che cosa ci fosse dietro alla storia di questo Principato, mi sono reso conto che al netto della diatriba, se debba o non debba essere indipendente, di cui poi parleremo comunque alla fine, c'è però dietro anche una storia molto più interessante e molto più antica, che racconta di come il territorio di Seborga, che ripeto, è veramente una piccola scheggia nel territorio italiano, il comune non conta poco più di 300 abitanti, ad ogni modo il territorio di Seborga sia stato per secoli al centro di una lunga diatriba sul suo controllo tra gli stati vicini, la Contea di Ventimiglia, la Repubblica di Genova, il Ducato di Savoia, il Duca di Provenza, il Regno di Francia e così via, dando a questo piccolo punto di territorio un'importanza gigantesca. E capire il perché fosse così importante è probabilmente la cosa più interessante di tutta questa storia, ed è l'argomento principale della pidola, che arriverà dopo la sigla. Ovviamente, quando ho iniziato a preparare questa pidola, sono andato a consultare anche il sito del Principato di Seborga, che ha tutta una parte storica in cui racconta la storia di questa zona, che poi sono andato ovviamente ad incrociare, non per mancanza di fiducia, per carità, ma giusto per sicurezza delle fonti, con appunto altre fonti. La storia di questo territorio sarebbe in effetti molto antica, con una fondazione nel tardo neolitico dei primi insediamenti, poi una cittadina dei Liguri, poi l'arrivo dei Romani, e quindi dopo le invasioni barbariche, l'arrivo degli Eruli, degli Ostrogoti, e alla fine dei Longobardi. È però una storia che in realtà non ha nulla di specifico, perché una marea di cittadine dell'entroterra Ligure hanno esattamente la stessa storia, o poco più. Così come una marea di cittadine dell'entroterra Ligure hanno le caratteristiche di Seborga, cioè quello di essere appunto dei borghi, Seborga, fortificati, situati un poco lontano dal mare. Perché queste cittadine erano così importanti in epoca medievale? Beh, perché erano protettive. Mi spiego. La Liguria, soprattutto nei secoli più bui del Medioevo, per così dire, fu esposta per lungo tempo a una serie di attacchi e razzie portati dai cosiddetti pirati saraceni, che partivano dal Nord Africa o più comunemente da territori ben più vicini, come la Sicilia, la Sardegna, e così via. E razziavano proprio questi territori, dai territori che attualmente sono nel Midi francese, la parte meridionale della Francia, alla Liguria e la Toscana. Arrivavano all'improvviso, sbarcavano, razziavano uno, due, tre villaggi, e poi ripartivano. Ogni tanto non ripartivano, creavano dei veri e propri insediamenti, dei piccoli sultanati, che duravano anche qualche decina d'anni, e che poi venivano riconquistati. È ovvio che però gli attacchi più comuni erano proprio le razzie. E quindi, la maggior parte della popolazione che viveva lungo il mare, non avendo possibilità di difendersi, cosa faceva? Creava delle grosse torri d'avvistamento, ce ne sono ancora moltissime in Liguria, sono anche molto belle da vedere, creava delle torri d'avvistamento, le quali, nel momento in cui avvistavano i saraceni, davano l'allarme, e le popolazioni lungo la costa si riversavano nell'entroterra, quindi in posti un pochettino più difendibili, però come sapete, la Liguria ha questa tendenza a diventare molto rapidamente montagnosa vicino al mare, dove sorgevano questi borghi fortificati. Seborga, ma non molto lontano, ce n'è un altro che è bellissimo, esattamente come Seborga, cioè Finalborgo, ad esempio, dove peraltro c'è anche il dualismo tra finale marina al mare e Finalborgo, ebbene, la popolazione si riversava in questi borghi per essere protetta. Quindi anche in questo Seborga potrebbe essere una storia come tante altre. La vera storia di Seborga inizia però quando i Longobardi cadono, quando Carlo Magno sconfigge il re dei Longobardi, ne sposa la figlia, conquista il territorio e l'annette al suo impero nascente. Ora, per chi non si ricordasse cosa ha studiato all'elementari e alle medie, se vi ricordate, l'impero di Carlo Magno aveva una suddivisione dal punto di vista dell'organizzazione abbastanza precisa, con un sistema piramidale che aveva in cima il sovrano, poi subito sotto i duchi e i marchesi, a seconda che si trovassero in un territorio più periferico, le marche, oppure in un territorio più centrale, i ducati, e al di sotto dei marchesi i conti e poi così via. Questo sistema feudale esisteva ovviamente anche in Italia e anche in Liguria, che si trovava sottoposta alla cosiddetta Marca di Tuscia, che, lo state vedendo sulla cartina in questo momento, comprendeva gran parte dell'Italia centrosettentrionale. In questa Marca di Tuscia il Principato, allora ovviamente non Principato, la zona di Seborga, il Borgo di Seborga, faceva parte della Contea di Ventimiglia, la quale all'inizio del X secolo giunse a rendersi completamente autonoma dalla Marca di Tuscia stessa. Ora, Seborga, in questo momento, era un paese come tanti altri, tanto che in realtà non viene praticamente quasi mai nominato in documenti dell'epoca, quantomeno quelli che abbiamo trovato, e una delle poche, pochi casi in cui viene nominato, in realtà, apre degli interrogativi, perché pare che venga chiamato Castrum Sepulcri, una cosa che alcuni storici hanno interpretato come un'indicazione del fatto che i conti di Ventimiglia avessero scelto di essere sepolti proprio a Seborga, ma dato che non sono mai stati trovati resti di antiche tombe medievali, né tanto meno di grosse tombe di personaggi importanti, questa rimane semplicemente una supposizione non suffragata da prove. Il primo vero documento a nominare Seborga è però datato 954 d.C., e lo sappiamo perché c'è materialmente scritto sul documento, ed è allo stesso tempo una delle più grandi prove dell'autonomia di Seborga e allo stesso tempo però anche una delle più grosse prove a suo discapito. Vediamo perché. Beh, ripeto, questo documento datato a 954 è un documento di cessione di Seborga da parte di tal Guido di Ventimiglia, Conte di Ventimiglia, all'abbazia di Lerino, che era un'abbazia situata su delle piccole isole che si trovano attualmente in Francia al largo delle coste di Cannes. Ebbene, Guido di Ventimiglia, in questo documento, dato che si preparava a partire per la guerra, dato che si preparava ad arrivare in Spagna per portare aiuto al re Il Defonso o Alfonso, non si capisce molto bene, accompagnato dai suoi compagni, cioè il Marchese del Monferrato e Tommaso, Conte di Savoia, che peraltro era suo parente dato che ne aveva sposato la moglie, decide di donare appunto il territorio di Seborga all'abbazia di Lerino, probabilmente un modo per cercare protezione divina in questa sua missione. C'è però un problema. Questo documento è molto probabilmente un falso e del fatto che fosse falso ne siamo abbastanza consapevoli da parecchi secoli perché già alla fine del XVII secolo quando venne studiato per la prima volta si disse che probabilmente era un falso. Innanzitutto per il modo in cui è scritto, il timbro e quant'altro, ma soprattutto perché ciò che riporta non ha praticamente nulla di vero. Ad esempio, non esisteva nel 954 d.C. alcun sovrano in Francia che si chiamasse Alfonso o il Defonso. L'ultimo era morto nel 1931, Alfonso IV di Leone ed è difficile pensare che dopo 23 anni la notizia non avesse attraversato la parte meridionale della Francia e fosse giunta a Ventimiglia o che comunque qualcuno partisse per portare aiuto a un sovrano morto da più di 20 anni. L'altro punto è che i compagni che avrebbero dovuto accompagnare Guido di Ventimiglia non esistono. Un conte di Savoia chiamato Tommaso nel 954 non solo non esiste perché il primo Tommaso sarà da lì a più di tre secoli ma addirittura come vi ho raccontato nella pillola sui Savoia non esisteva neanche la Contea di Savoia che nascerà all'inizio dell'undicesimo secolo quindi quasi 50 anni più tardi e anche se dovessimo fidarci sull'antico fondatore dei Savoia Mano Bianca in realtà questo non sarebbe comunque ancora nato quindi tutto questo fa capire che il documento era falso. I Savoia ma la stessa cosa si può dire ad esempio dei Marchesi del Monferrato anche qui non solo non esisteva un Raimondo Marchese del Monferrato ma anche in questo caso la marca del Monferrato il Marchesato del Monferrato ancora non esisteva sarebbe nato lì a qualche anno ma è difficile che un documento ufficiale anticipi i tempi inventando dei titoli che ancora non esistevano insomma tutto questo fa capire che questo primo documento del 954 molto probabilmente era un falso c'è un ma però perché se su questo documento ripeto convinzione che sia falso è abbastanza diffusa e devo ammettere che anche sul sito del Principato di Seborga avanzano qualche dubbio sulla cosa e se lo fanno loro direi che possiamo prenderlo per assodato in realtà c'è un documento più recente del 1177 che nasce da una questione nata proprio tra l'abate di Lerino e il conte di Provenza su chi debba in effetti controllare Seborga in cui e in questo caso il documento invece è assolutamente autentico noi abbiamo in realtà una copia autenticata dell'inizio del XIV secolo inizio 1300 che però è confermato essere reale ebbene nel 1177 o si fidarono di quel documento del 954 quindi credettero la sua versione o avevano altre fonti per dire che in effetti una cessione c'era stata perché quando il conte di Ventimiglia chiese di riottenere indietro Seborga chiese che si rivalutasse il perché Seborga faceva parte dell'abbazia di Lerino un gruppo di maggiorenti diede ragione proprio all'abate ora la domanda che immagino uno si potrebbe fare è che cosa se ne faceva un'abbazia situata a Cannes del territorio di Seborga è una domanda complicata da fare perché in realtà il territorio di Seborga non era particolarmente ricco il suo territorio era principalmente sfruttato per motivi agricoli ma la popolazione era scarsa l'agricoltura era abbastanza difficile tanto che addirittura gli abati avevano dovuto più volte intervenire per finanziare materialmente il territorio di Seborga prendere addirittura dei prestiti con la nascente Repubblica di Genova per finanziare il territorio di Seborga ed evitare che scoppiassero delle carestie inoltre sappiamo una cosa gli abati di Lerino molto raramente si recavano a Seborga molto raramente raggiungevano questi luoghi e preferivano che a governarli fosse un loro rappresentante una specie di sindaco da loro nominato un podestà nominato il quale governava in loro vece il territorio coadiuvato da un gruppo di uomini eletti dalla popolazione locale e mandava quei pochi proventi che Seborga forniva direttamente all'abazia ma allora ripeto che cosa se ne facevano gli abati di Seborga? Beh se ne facevano perché proprio il controllo di Seborga aveva permesso agli abati di autonominarsi principi di Seborga ora normalmente i titoli di questo tipo avevano una nascita di tipo imperiale cioè era l'imperatore o sotto i vari livelli ovviamente nell'organizzazione feudale a poter fornire e riconoscere questi titoli quando venivano creati se però il titolo nasceva in ambito religioso cioè a freggiarsene era un religioso come in questo caso in cui il titolo non poteva passare ad un ad un signore feudale laico ma doveva rimanere all'abate di Lerino ebbene in questo caso a riconoscere quel titolo poteva essere direttamente il papa ed è fu esattamente quello che gli abati ottennero divenendo principi di Seborga si fecero riconoscere un titolo che li rendeva tutti gli effetti indipendenti dal punto di vista religioso e questo gli permetteva che tutti i loro territori quindi anche quelli dell'abbazia originale fossero non direttamente sotto il controllo del vescovo locale cioè dell'organizzazione gerarchica religiosa voi direte e quindi e quindi la motivazione era prettamente economica perché in questo modo potevano evitare di versare al vescovo una parte delle decime una parte delle quote di tasse che ricevevano dai fittavoli dai vari territori e potevano tenersela di per sé per intenderci si tratta di una gigantesca organizzazione per motivi fiscali se ne fanno ancora adesso all'epoca ci si faceva nominare principi e si faceva così proprio per questo quindi il principato di Seborga e Seborga pur essendo molto piccola e pur essendo insidiata da tutti i grossi stati intorno rimase strettamente legata fino al XVII secolo all'abbazia di Lerino ad un certo punto nel 1666 probabilmente disperati perché non sapevano più come pagare i debiti i monaci giunsero a far costruire proprio a Seborga una zecca che venne costruita nel palazzo principale della cittadina questa zecca iniziò a produrre addirittura a battere moneta in maniera diretta producendo dei luigini che erano delle piccole monete francesi di scarso valore che appunto luigini perché in Francia avevano l'immagine del re Luigi sull'incisa incisa sopra i quali però quando venivano prodotti a Seborga erano di qualità ancora più pessima ne sono rimasti nove esemplari dai quali possiamo capire in realtà lo capiamo anche dai documenti dell'epoca che questi luigini di Seborga erano di qualità talmente scarsa data la pochissima presenza di argento nella moneta che era quella che materialmente gli dava valore di qualità talmente scarsa da essere considerati praticamente dei falsi da tutte le altri territori intorno tanto che lo stesso Genova lo stesso Conte ormai Ducato di Savoia erano intervenuti presso il re francese che controllando la Provenza controllava quindi anche l'abbazia di Lerino affinché gli imponesse di chiudere quella zecca e così avvene ripeto oggi ne rimangono solamente nove esemplari tutti gli altri sono andati perduti fallito anche questo tentativo agli abati non rimase che vendere e così nel 1697 alla fine del XVII secolo si decisero a trovare un acquirente per quel territorio che non gli dava nient'altro che debiti un acquirente che in realtà avrebbe versato dei soldi che sarebbero principalmente finiti proprio nelle casse dei creditori che avevano finanziato con crediti l'esistenza appunto di Seborga fin dall'inizio i compratori furono tanti ma i principali interessati a quel territorio erano due cioè il Savoia con Vittorio Amedeo II e la Repubblica di Genova che cosa se ne facevano i Savoia di Seborga ripeto un paese di 300 abitanti se ne facevano tanto perché all'epoca i Savoia dopo aver conquistato il Piemonte stavano cercando in tutti i modi di spingersi verso sud per riuscire finalmente a raggiungere il mare acquisire un porto e creare in questo modo un'unica linea di passaggio proprio tra il mare e le Alpi e attraverso le Alpi piemontesi verso nord verso la Francia in realtà i piemontesi come si vede dalla cartina quello sbocco l'avevano già conquistato con Nizza quasi un secolo prima ma avevano bisogno sempre più di rafforzare le vie di comunicazione tra quel piccolo sputo di mare e ovviamente il corpo centrale del Ducato che si trovava invece in Piemonte ovviamente tutto questo era molto mal sopportato dalla Repubblica di Genova la quale considerava la Liguria un proprio territorio e dopo aver acquisito i territori in direzione di Nizza aveva sostanzialmente considerato Seborga una piccola punta fastidiosa una spina fastidiosa nei suoi domini per 30 anni in realtà gli abati nonostante l'interferenza di Genova cercarono continuamente di vendere a Savoia che si fecero avanti più volte per acquistare ma ogni volta Genova riusciva a mettersi in mezzo convincendo gli acquirenti ad interrompere la vendita addirittura arrivando ad appellarsi al Papa affinché bloccasse quel passaggio cosa che il Papa poteva fare dato che erano territori ecclesiastici alla fine però dopo 30 anni i Savoia riuscirono a perfezionare la vendita e ad inglobare il territorio di Seborga ora su questo avvenimento si basa la stragrande maggioranza della base storica tra virgolette dell'esistenza del Principato di Seborga non è che da qui in poi Seborga scompaia ma a tutti gli effetti la storia si unisce a quella del Ducato di Savoia e la accompagnerà poi nella sua evoluzione al Regno di Sardegna poi al Regno d'Italia e alla fine appunto Repubblica Italiana Seborga inizia a riscoprire la sua vocazione autonomista diciamo così tra la fine degli anni 50 e l'inizio degli anni 60 del secolo scorso del XX secolo quando un gruppo di cittadini capitanati da tal Giorgio Carbone iniziano a riscoprire e portare alla luce dei documenti che proprio mostrerebbero come in realtà l'acquisto da parte di Savoia di Seborga non sarebbe stato così regolare e che quindi Seborga dato che l'abbazia di Lerino non esiste più perché nel 1788 fu i suoi territori furono inglobati proprio dal re di Francia poco prima della rivoluzione il principato di Seborga sarebbe dovuto rimanere completamente autonomo nel 1963 Giorgio Carboni venne addirittura nominato principe di Seborga una carica che non è ereditaria a vita in realtà Carboni manterrà per tutta la vita fino a quando morì di Sla una decina di anni fa e che poi però continuò ad essere che però di base elettiva in cui il principe viene nominato proprio dai maggiorenti della città dopo Giorgio Giorgio I gli succederà un Marcello I e adesso dal 2019 c'è una donna come principessa di Seborga Nina prima di Seborga ora tra l'altro anche sul loro sito si scrive Giorgio I Marcello I è una cosa che a me fa un po' ridere perché teoricamente sarebbe solo Giorgio quando ci sarà un secondo sarà Giorgio I ma fa ridere che uno si nomini Giorgio I non importa questa ve la lascio come curiosità mia la domanda a questo punto è su che basi originano queste rivendicazioni beh dal loro punto di vista quello che si dice è questo che nel documento di vendita che venne poi redatto a Parigi alla presenza proprio dei rappresentanti dei Savoia e dei rappresentanti dell'Abbazia si decise che il territorio di Seborga non sarebbe stato parte del Ducato di Savoia ma sarebbe piuttosto stato un dominio diretto una proprietà diretta del suo Duca per intenderci un po' come se il Gran Duca di Lussemburgo venisse in Italia e comprasse una grossa tenuta che occupa una serie di una certa quantità di ettare di terreno bene anche se quel terreno è una proprietà del Gran Duca di Lussemburgo questo non vuol dire che diventi parte del Gran Ducato del Lussemburgo avete capito la differenza dominio personale proprietà personale con un dominio invece di uno Stato proprio per questo secondo loro non avrebbe mai dovuto essere inglobato nel Ducato di Savoia inoltre secondo quanto viene detto il Savoia non avrebbero mai realmente pagato quanto dovuto all'Abbazia ne avrebbero saldato i debiti cosa che avrebbe ovviamente reso nulla la vendita e gli stessi Savoia non si sarebbero mai freggiati del titolo di Principi di Seborga proprio perché consapevoli del fatto di non averne diritto in realtà dal punto di vista storico queste sono motivazioni abbastanza leggere perché innanzitutto non è riportato in nessun documento che il territorio di Seborga non potesse essere unito a quelli del Ducato se non proprio al momento della vendita negli anni successivi è vero che i Savoia molto probabilmente non pagarono o pagarono solo in parte quel territorio cosa che creò una serie di controversie proprio con Genova oltre che con la Francia ma alla fine fu il Papa stesso ad intervenire e ad accettare che la vendita fosse comunque completata e che quel territorio passasse definitivamente ai Savoia cosa che rende questa giustificazione abbastanza nulla inoltre se vi ricordate vi avevo detto che il titolo di Principe di Seborga non era un titolo laico creato dall'imperatore o comunque con una titolazione che potesse passare di padre in figlio ma era un titolo che era strettamente religioso legato proprio agli abati di Lerino i quali peraltro lo utilizzarono solamente per circa un secolo alla fine tra il XVI e XVII secolo quindi gli ultimi anni del loro dominio e quindi dato che il Duca di Savoia era invece un laico non poteva freggiarsi di quel titolo che molto probabilmente si perse al momento della vendita insomma queste motivazioni sono francamente abbastanza leggere e proprio per questo nonostante molte interpellanze non sono mai state accettate da nessuna autorità mondiale e a tutti gli effetti nei fatti ma anche nella realtà il territorio di Seborga è controllato dalla Repubblica Italiana tanto che Seborga è un comune e ha oltre che un principe anche un sindaco eletto in maniera del tutto democratica e allora che perché tutta questa manovra se le motivazioni storiche sono risibili e diciamo chiaramente mai nessuno stato al mondo riconoscerà Seborga come uno stato autonomo perché ovviamente potrebbe scatenare una ridda di richieste di autonomia beh la motivazione ve l'ho detta all'inizio a mio parere è una gigantesca operazione commerciale turistica Seborga è un paese bellissimo vi invito ad andarlo a visitare è veramente molto molto bello ci sono stato ma di paesi di questo genere in Liguria ne esistono una marea senza andare alle 5 terre ci si può spostare ad esempio a Finalborgo forse ve l'avevo nominato anche prima che non è molto lontano e a sua volta è un bellissimo paese fortificato ma credo che ognuno di noi che è stato in Liguria ne abbia visitati di questi paesi quindi che cosa può spingere a recarsi a Seborga beh proprio la curiosità per questo principato autonominato un principato che poi nel corso degli anni ha fatto tutta una serie di iniziative di tipo culturale ha creato una bandiera ha creato un proprio consiglio direttivo tutte cose ha creato una propria guarnigione di truppe tra virgolette a sua difesa ha iniziato a stampare moneta creando proprio dei luigini che hanno un valore di 6 dollari che possono essere utilizzati all'interno del principato ma che hanno più che altro un valore numismatico come curiosità stampa dei francobolli anche in questo caso ricercati dai collezionisti insomma tutta una serie di iniziative che servono solamente ad attirare turismo e ad attirare guadagni assolutamente legittime assolutamente accettabili ma che a mio parere e anche secondo il parere della stragrande maggioranza degli storici di storico non hanno assolutamente nulla spero di avervi comunque tolto un po' di curiosità di avervi mostrato come anche in epoca medievale ci fossero queste lunghe contese sul dominio di piccoli e grandi territori pensate ad esempio a tutte le contese che furono fatte sulla legittimità o meno della famosa donazione di costantino che concedeva il centro italia al papa pensate questa ovviamente è una versione un po' più grande della contesa nel caso di seborga qualcosa di un pochettino più piccolo spero comunque con questa storia di avervi incuriosito e di aver sedato le 2000 richieste che venivano ogni volta che parlavo di piccoli stati questa pillola comunque la infilo nella playlist che trovate in descrizione se volete scoprire la storia di altri stati in questo caso riconosciuti bene io mi fermo qua se la pillola vi è piaciuta e non volete perdervi le prossime iscrivetevi al canale cliccate sulla campanella e per il resto vi ricordo di essere curiosi perché la storia del mondo là fuori è piena di avvenimenti e storie fantastiche storie incredibili che nessuno scrittore nessun registra ma è la fantasia di mettere nelle loro opere e se volete iniziare a curiosare qua a fianco c'è l'elenco delle pillole uscite fino adesso in realtà credo che prima o poi un film su seborga lo vedremo magari come quello sull'isola delle rose che ho recensito che è una storia d'amore un po' di tradimenti ci sta alla prossima ciao ciao